Il progetto che portiamo qui al convegno si chiama CLIMB, è legato all'indipendenza della mobilità dei bambini e portiamo degli supporti tecnologici per aiutare i bambini a partecipare al pedibus. Il pedibus è una carovana di bambini che va a scuola come se fosse un autobus accompagnati da un adulto. Abbiamo associato all'attività tradizionale delle tecnologie, delle internet of things, cioè dei sensori intelligenti che capiscono la prossimità dei bambini al accompagnatore e aiutiamo l'accompagnatore a gestire bene l'appello quotidiano in maniera automatica. A questo abbiamo aggiunto anche un gioco che i bambini fanno a scuola, a questo gioco possono partecipare tutti i bimbi che vengono a scuola in qualsiasi maniera, guadagnano dei punti per fare un viaggio virtuale con delle tappe didattiche e raggiungere una meta a fine anno. In questo modo i bambini sono motivati a venire a piedi con i mezzi sostenibili e aiutiamo anche i genitori e la comunità a supportare i loro bambini a scegliere dei modi di arrivare a scuola sostenibili.